Siamo oggi riusciti ad arrivare a oltre 4 milioni e mezzo di uomini e a parte ci manda un appunto che si rispetta e che ci manda, ci mantiene il dovere di oggi con l'internet molto facile e molto effettivo, per tramite l'internet del Voto 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 del V Grazie. Grazie. Nella difesa della dignità umana, nel rigetto di ogni forma di odio, nel rifiuto di ogni discriminazione, nella ricerca della pace. Possa il silenzio di questo luogo esserci di aiuto per affrontare la violenza dei nostri tempi. Grazie. A nuova forma di antisemittismo ha trasformato dalla delegitimizzazione del giù, a dalla delegitimizzazione del giù. I am alargato per vedere il mondo turno a blinde eye a moderno di antisemittismo. I commendo Italia per lavorare extensively in the field of holocaust commemoration. Questo è molto importante e apprezzato. Grazie.